duniziani oggi iniziamo la sfida dell'ender dragon sì la sfida quello che è andremo ad ammazzare duniziani esattamente proprio così dobbiamo prima andare allora fede fede ti ricordo che tu devi parlare il meno possibile perché il tuo audio sembra non lo so quello proveniente dai mondi astrusi fede roscoli io intanto guardo anche qua duniziani perché qua uno schermo che mi dice tutta la verità di chi sta facendo una sorta di eco e quella persona che sta facendo eco in questo momento è chiara quindi chiara immediatamente risolvi questa cosa immediatamente puzzona schifosa come ti permetti eh allora noi intanto ci incamminiamo verso l'ender dragon e poi ci vediamo là allora duniziani possiamo partire siete pronti ragazzi io sì io sì andiamo a fare il sedere a quell'ender dragon sì 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 ma subito proprio aspetta tutti per uno uno per tutti e niente sono caduto forza forza venite ok perfetto allora adesso siamo siamo qua e dobbiamo cercare di sopravvivere prima di tutto quindi esatto bravo angelo che stai scavando scava scava tu intanto che scavi noi siamo a lui è il minatore anche perché oggi purtroppo non può parlare duniziani perché è successo un fatto scusa fede cos'è che devi fare nei video di duniz fede devi stare davanti a lui oppure forse devi stare dietro assolutamente no hai ragione ecco noi andermen allora e gli andermen lasciateli stare che sono stupidi proprio puzzano comunque vedi gabri che il drago c'è il drago c'è guardate che stupido mannaggia che io distruggo il drago e porca miseria non so se prima però dobbiamo togliere i cosi nelle torri non mi ricordo come si chiamano esatto allora cristal all'attività di cristal dividiamoci i compiti ragazzi allora gabri e chiara gabri e angelo che sono i più audaci fate mamma mia fate questa cosa fate fa bene va bene togliete i cristalli intanto c'è un enderman che porca miseria mi vuole ma io non lo lascio fare perché e voi voi distruggete anche voi se vedete ecco no però aspettate perché sennò poi dopo uccidete l'enderman picchiatelo picchiatelo difendete l'uno oddio devo prendere cuori chi cosa come i due cuori scappa e voi proteggetevi se morite allora però soprattutto concentratemi sul parlare perché se morite non fa niente ma dovete concentrare sul parlare esatto se non parliamo devi ci ammazzare definitivamente esattamente vedo che hai capito allora e cosa è successo successo fede 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 scappa 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 mannaggia scappa ok adesso morirci esatto gabri se tu se tu spari lano non serve niente devi andare sopra ma che stavo andando sopra e non sono io infatti poi era chiaro secondo me ma io sto cercando di capire dove caspita eccolo qua schifoso piedi e puzzone vieni qua betti puzzacchione ti prendo da lì ma secondo voi si vedrà nel video perché secondo me è un po buio è un po buio cercherò è un po cercherò di non guardare aspettare no no allora è successo un fatto purtroppo qua il la nostra povera fede è morta e deceduta non ma la tua roba dov'è fede ovunque è una cosa viola per luminosità dal gioco volendo ok bravi ragazzi forza distruggiamo distruggiamo spaccategli il sedere a sto schifoso chi è stato chi è stato oh no oh no pure siamo è morto porca miseria no questa cosa non ci voleva oh porca miseria ok ok allora distruggiamolo distruggiamolo tutti quanti forza mannaggia questo ender dragon mamma mia c'è che abbiamo una mira proprio qualcuno l'ha preso madonna no vabbè raga è impossibile io solo 45 frecce fra l'altro vai no prendo un po delle mie dove sei non riusciamo a prendere vabbè aspetta non non riusciamo no allora sta continuando a girare fermi perché così a tirare a caso sprechiamo solo le frecce non risolviamo niente allora prima infiniti e io anche ok allora voi che avete infiniti fate intanto noi cerchiamo di ecco la riva una strategia diversa è ok sta arrivando perfetto questo è buono questo è buono perché si arriva dunisiani possiamo distruggerlo schifoso è brutto schifo ok ok spicchiamolo cosa sto facendo impazzito avete visto è pazzo è pazzo dunisiani avete sentito il rumore avete sentito vero non è quasi morto quasi morto ok esatto chiara ti sembra il momento di dire che è schifo lì l'ho ammazzato io oh mio dio ok fermi tutti i livelli live ma mannaggia sto coso mannaggia non prendete i livelli perché ce li dobbiamo dividere ci dobbiamo dividere e poi ce li dividiamo scusa è una parte una ma non è caduto niente meglio così guarda meglio che esatto infatti meglio forse hai fatto pure apposta probabilmente va bene allora dobbiamo prendere poi l'uovo l'uovo ok ok giusto sì l'uovo io come fare siamo pronti per andare nelle end cities esatto e voi siete pronti secondo me sì vediamo di trovare l'acqua vicino no gabrie mi devi dare un ender per come come faccio a darti l'ender per dai non mi dire che te ne sei andato no no sono qua con l'aciuta ok è perché praticamente qua non mi ha teletrasporto mi hanno mi ha mandato mannaggia dai ma dove siete ti aspettiamo dietro siamo ma io arrivo da sei andati tutti no ho detto da me neder per secondo te perché ho detto un enderman donna mia no non erano entrati tutti era c'era chi è che c'era fuori c'ero io ma mi stai visto dove sei vabbè ok sto arrivando comunque due anni avere questi tipi di amici che è schifo vai a quel paese ma come ma ci avevi l'ender ciao no l'ho ripresa sì l'ho ripresa fai schifo gabrie puzzi vabbè comunque no allora siamo qui nel end cities molto belle devo dire guardate che aspettate mi aspettate mi chissà mannaggia lui ha le sue chiappette cosa hai fatto eh mi ha tifato dall'altra parte che cosa imbecille imbecille tutti quanti qua imbecilli ecco eccomi sono qua sono qua idioti vabbè basta no sì allora forza prendi questo soros fruit per per cosa a chi ho detto di prendere solo sfruite a gabrie o a fede perché a me sembra di averlo detto a gabrie cara fede ti chiami gabrie eh ti chiami gabrie ok sarà meglio anche perché sennò poi è preoccupante gabrie prendi questo solo sfruite ma però mi serve ti serve tua sorella ma va bene no no non farmi dire ok allora ma purtroppo chi è stato cosa è successo no non sono stata io cosa è successo non sarà meglio che tu non distrugga le bellissime end cities che sono tutte mie il capitano eh certo sembra giusto eh non ce la possiamo dividere no ti ti butto giù brutta schifosa no i endermen i endermen allora forza concentriamoci sulla missione dobbiamo trovare una navetta eh una di quelle forza conferenze eh è difficile sesso nelle litre esatto sarebbe bello però trovarle ma cosa fa questo enderman ha fatto cose buote ma infatti ti è morto davanti si uccidi un po di intervenne perché praticamente no 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 stata attenti eh certo che comunque siamo il proprio deficiente cioè se è messo ad uccidere l'ender lah no dai no ma che si liáveis podio ti giuro mi sono inseguendo manco li ho guardati eh lo so ma non ciochi agenti Allora però voi Perché non si sente niente Ma come no A fare sti video io seriamente Mi sto deprimendo Perché voi non si sa Parlate insieme non si capisce niente di quel che Poi ci sono sti enderman schifosi Allora hostile creatures Dove sono Le devo togliere immediatamente perché fanno schifo Dovete togliere Gli enderman dai vostri mondi No Sono utili Sono utili ti danno le enderperle Mi prendi dalla creativa Mi stanno distruggendo E poi senza gli enderman non puoi andare dall'essere No fanno bene a distruggerti Guarda Vieni seguito dagli enderman Esatto No vabbè dai No Ok abbiamo ucciso Oh meno male Il mio amico Samu Allora quindi niente Devo andare e fare un taglio Iniziano abbiamo trovato un'altra struttura 20 volte più imponente di questa Sì questa qua è molto meglio E ha pure la nave E ha pure la nave Oh meno male Bellissimo bellissimo il fatto che abbia la nave Perché adesso donisiani possiamo finalmente prendere Le litra donisiane Possiamo volare anche se Per adesso solo Denis Esattamente Ebbè vabbè sì solo io posso volare Però sempre meglio di niente E poi in queste end cities ci sono un sacco di ricchezze Pazzurde Eh lo so lo so Che chi trova le avrà chiaramente Sì 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 Ah hai capito Eh esatto Esatto non farò No è però uffa No 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 allora Prima di tutto devo arrivare io Mannaggia Mannaggia i Chorus No qua mi ammazzano Mi ammazzano raga Mi ammazzano Shulker Eh Eh Mannaggia loro No quali sono scusatemi Mannaggia ma infatti ma infatti ma sto ce sono fuori di te No Io non riesco a salire Allora salite salite bene Salite più forte Salite di più Salite con più potenza No Sì 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 No come è successo di nuovo No non mi dire Non mi dire ok ok Però adesso Dunis si sta comportando bene A voi invece come va ditemi Eh più o meno bene Non riesco a salire Ok questa questo potrebbe essere in effetti Ma scusa No allora ragazzi c'è un problema in questo mondo Dove sono tutte le ceste Non c'è Ah ok sì c'è 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 Perfetto perfetto Sì sì dovrebbe esserci Ha trovato una palla in diamante Ah che bella Mamma mia Che bella Molto usile Sì hai visto Chiara Esatto Dai qua ci sono i tizi qua che mi stanno uccidendo Ragazzi Aiutatemi pure Mannaggia voi E come facciamo Non ne ho idea Venite Siamo già noi in difficoltà Mi dispiace molto Questa cosa non dovrebbe mai succedere Perché Ah però scusate ma Siete morti No no Abbastanza Eh non dovete morire lo sapete Dovete concentrarvi sul parlare Sto morendo anche su Minecraft E questo è il problema Eh ma stai parlando male adesso No Ti senti Se non parla Chiara parla bene Ma io parlo come prima Vuol dire che per tutto il video hai parlato di schifo Spero di no Eh Perché se è successo davvero questo È un problema Lo sai vero questo Oh porca miseria Ho trovato Ah no questa è la cassa che hai svuotato te Eh esatto È proprio quella che ho svuotato io Mannaggia Alle vostre chiappette Che parlanti male Mamma mia Adesso mi mangio una mela d'oro Ah che buona che è una mela d'oro Eh esatto Sai cosa faccio pure Mi prendo pure l'ender chest Che così Prendi Eh però solo con slick touch Che deficiente Eh sì Infatti l'ho rotta No Vabbè vabbè Ci saranno altre possibili Allora scusa No 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 Allora Chiara parla bene Mannaggia te Parla bene Ma io sto parlando come parlavo prima Non capisco come Se allora Allora se ti dico di parlare bene Vuol dire che Non stai parlando bene O mi sbaglio Chiara E cosa devo cambiare Me lo dici non lo so Parlare più forte no Oppure Oppure non lo so Devi metterti un cavolo in gola Un cavolo Cosa Eh Per parlare più forte Com'è che si deve parlare bene Com'è che tu parli bene Dimmi Parlando Parlando Eh No però parlando forte Non parlando a caso Eh quindi parla forte Non parlando a caso Mannaggia te Poi Anche tu Gabby A volte ti addormenti Anche se vedo in questo video Eh scusa Anche se vedo che in questo video Sei molto più sveglio Samu è addormentato come al solito Vabbè Samu No Comunque ho appena trovato La nave Sì Non Che cosa Cosa me lo chiedi Cioè No Prefai quello che vuoi No devo fare delle cose Ho perso tutto Ah del ferro Mi dispiace molto Eh beh Perché Dovete sapere che Mi è morto Numerose volte Comunque il cavolo Devi sapere che Questa cosa che stai facendo Mi sta facendo molto arrabbiare Perché Ma no ma tanto Le litre te la do a te Le litre No Non puoi Non puoi prenderla E nemmeno Ma lo so Ma infatti neanche la prendo Non puoi Devi aspettarmi là Se arrivi devi aspettarmi fuori Ti aspetto Ok Sarà meglio che mi aspetti Mannaggia te Alle tue cappette Eh Ciccio bello Ah Sto cadendo Ok no Non sto cadendo Mamma mia Quanto sono bravo Perché Io ho le mele d'oro Dunisiani Ho le mele d'oro Che praticamente Adesso non mi fa più cadere Ho trovato un pezzo Di armatura Commenting Davvero Che schifo Sì No fai Però non me ne faccio niente Io Allora dai a me Va bene Prendi pure Prendi Visto che Sono quello che fa più schifo Cioè nel senso Quella che ha l'armatura Meno peggio Meno meglio C'è anche un elmetto lì dentro Allora molto No L'elmetto di diamante però Sì con unbreaking Eh no no Non è vero Non c'è Dove è Ma come no Ah l'ho preso io per sbaglio Ma che schifo Adesso trovo Ok Vabbè Unbreaking però Non è che mi serva molto Cioè nel senso Potrebbe essere utile Qualcos'altro Eh non ho trovato nient'altro È colpa tua Brutto schifoso No Come ti permetti Grazie Grazie Fasemi dove siete No No aspetta Avete lasciato da sola Ma avete lasciato No Fede Ma Fede Ma cosa ti ho detto Ma perché ti hai preso adesso Perché adesso Si sta parlando Fede E perché Samu No Doniziani Adesso dobbiamo Ma che sta succedendo in questo video Ma infatti Scusa perché Fede Si è messa a parlare da sola E poi dopo Samu ha detto Sì infatti Una cosa che non c'entrava Un cavolo Sto nel senso per tornare Ma che c'è Ma che c'è Ma non ho capito Ma cosa sto dicendo Eh sono morto Infatti Eh sei morto Quante volte sei morto In questo Dai Devo arrivare prima io Devo arrivare prima io Vabbè No Tu no Assolutamente Ah di nuovo unbreaking È una Dammi la spada Brutto schifoso C'è smite Unbreaking Che schifo Stavo per morire Protection Ho questa qua Buonissima Meglio questa Che ho trovato io Scusatemi Veramente sono da sola Non so dove siete Come Eh Fede Perché Perché ti sei Divide dal gruppo Perché Io stavo con Chiara Non so che fino a fatto Però Io Quasi era davanti Ad Io Io sono praticamente Su Su Oh È morto Sono morti Tutto No no Siamo vivi Siamo vivi Ma Scusa un attimo Ma dove è la nave Ah eccola qua Lì sotto Lì sotto Ok Tiro un enderperle E via Ok Eccomi qua Sono pronto Duni Cosa sto facendo Oddio Cantando un erico Allora Non ti permettere Perché io canto benissimo Mamma mia Schifoso Di un shulker Schifo Non ti permettere mai più Sai Schifoso Che schifo No Che schifo Ah Che bello Che Duni Sa le cose belle Se fai volare A differenza degli altri Ah Come le trovate Sì No Assolutamente Duni Si può pure fare uno shulker Dunisiani Sapete cos'è lo shulker E tipo Ah posso prendere io la testa del drago Vabbè fai quello che vuoi Dicevo Adesso puoi fare quello che vuoi Dicevo Va bene Adesso Dunisiani Dunis può anche farsi l'armatura No scherzavo L'armatura Può farsi Non so cosa stavo dicendo Dunisiani Lo shulker box Dunis sta perdendo colpi Ma dopo tutto anche Chiara sta perdendo colpi Perché ormai ha fatto il suo tempo No Chiara vero Lei prima una volta era brava Una volta era molto Eh esatto È vero Era molto chiarosa Chiarosa Ancora che continua a parlare piano Ma parla forte Porca di quella puzzola Ma non è le puzzole Puzzolona No Senti ancora parla piano Parla Oh ma vuoi parlare forte Eh infatti È vero Gabby Ma che sposti di così non riesco Non è vero Non è vero Se tu parli forte E poi dopo non parli più forte Vuol dire che prima riuscivi Oh no Mannaggia Ma questo è la mia voce No 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 sto volando Non è vero A volte fai urli come scrofa No Cioè non so Adesso io Dai zitto tu che tu puzzi Ma perché sto volando Ah Ok adesso posso scendere giù Volando Mannaggia dai Fammi scendere Fammi volare l'elitra Schifoso Ok Dunisiani Porta misera Guardate Dunis Quante pro Più o meno Io vorrei entrare Però se Se entro ci muoio No Perché ci muori Gabby Perché stavo cadendo dalla nave Che schifo Madonna Eh lo so Eh scusa Allora mori per forza Perché Eh ma ho paura di cadere nel vuoto Non voglio Eh mi sa che cadrai nel vuoto Gabby No Vabbè È stato bello però Fare questo video Dunisiani Io direi che Se siete arrivati Eh Se siete arrivati Cosa Se siete arrivati Fino a questo punto del video Scrivete Boh Enderman Nei commenti Direi che è una cosa molto Enderman Sì 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 Sono una fantasiosa Assolutamente fantasiosmente Mamma mia No anzi Non scrivete niente Mettetemi Un emoji Un emoji Un emoji bella Quella Tipo quella Del parmigiano Parmigiano Esatto Parmigiana Cosa sto dicendo Dunisiani aiuto No ma tu sei andato oggi Eh perché Tu perché Tu sei proprio sveglia Vero Sì Io sono sveglia Sì Soprattutto parlare No sì Vabbè ok Comunque Dunisiani Io ci direi Niente Ma io veramente Continuo a ripetere Le stesse cose Non sappiamo più parlare Nessuno Pure tu Non sappiamo più parlare Nessuno Eh vedi Non so neanche parlare io Vabbè a parte che tu Non hai mai saputo parlare Eh vedi Mi ammazza Mi ammazza Mi ammazza Mi ammazza Fede Fede ma che ti hai preso Enderman Ma secondo te Mi intere Ma muori in silenzio Ma cosa me ne frega Ma che vuole Dammi questo Ma scusami Cioè Questa qua parte Ma ammazza Ma ammazza Con quella sua voce da robot Voce da robot Senti Adesso è diventata una strega Si è trasformata Perché è diventata sera Noi stiamo registrando di sera Dunisiani Quindi è diventata Una strega Eh Vabbè comunque niente Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao